ben ritrovato a tutti voi e ci si sente sempre a casa amici qui da auto moto marco in corso orbassano 390 a torino i professionisti dell'usato auto e moto multi brand anche per soddisfare i palati più esigenti è un'accoglienza sempre strepitosa quella di alessandro signorini ciao ben trovato ciao palma un saluto a tutti da auto moto marco tutto l'usato è sottoposto a rigorosi controlli di qualità per offrirvi sempre solo il meglio amici ma anche per proporre in permuta o in vendita il vostro usato si è detto bene palma acquistiamo il vostro usato pagandolo immediatamente o lo permutiamo sui nostri prodotti cerchiamo di fare veramente di tutto di più per accontentarvi al meglio voi siete veramente i protagonisti come dice palma e allora non perdiamo altro tempo per voi le proposte di auto moto marco state con noi partiamo subito con una chevrolet spark 1000 con impianto gpl del 2013 pochissimi chilometri full optional a solo 5.800 euro una twingo del 2014 anche questa full optional modello un pochettino più sportivo adatto ai neopatentati a solo 5.200 euro una toyota i go 1000 benzina unica proprietaria cambio automatico udite udite 4.800 euro spazio tantissimo quattro ruote motrici per questa subaru outback 2000 turbodiesel 150 cavalli ha anche il cambio automatico venite a scoprire il prezzo qui in corso orbassano 390 ricordo che del 2015 2016 invece di ottobre questa classe b 180 diesel solo 16.500 chilometri ancora in garanzia ufficiale mercedes a 19.900 euro pagabili con come dei 60 rate volvo v40 un cross country 2000 turbo diesel full optional all'interno in pelle cambio automatico navigatore a veramente di tutto solo 15.900 euro nuovo arrivo per questo appunto 1200 benzina del 2015 pensate solo 19.000 chilometri a 7.500 euro 12.900 euro invece per questa mini turbodiesel 1500 del 2014 unico proprietario con 70.000 chilometri coperta da 12 mesi di garanzia fiat cubo 1400 benzina del 2012 66.000 chilometri tenuto veramente molto bene a solo 6.900 euro panda 1300 multijet si tratta di una cross 4x4 anche questa pochi chilometri del 2015 e un 5 posti a solo 12.950 euro se volete un po di sportività qui in corso orbassano potete trovare veramente di tutto come questa 500 abart attenzione è una competizione 180 cavalli unico proprietario del 2015 a 15.900 euro oltremente una giulietta 140 cavalli una versione un po personalizzata del 2011 a 9.900 euro lo ripeto sempre non ci dimentichiamo della gente che lavora abbiamo anche mezzi commerciali di piccole grandi dimensioni permutabili con la vostra auto e la vostra moto renault laguna station wagon 2000 turbo diesel equipaggiata anche di gancio traino del 2009 tenuta in veramente in buone condizioni a 6.500 euro abbiamo anche una toyota auris turbo diesel del 2013 unico proprietario 80.000 chilometri si tratta di un 2000 a 10.900 euro una croma del 2010 anche questa con cambio automatico e altri accessori a solo 6.500 euro una scoda con impianto gpl montato nel 2014 solo 120.000 chilometri ha un prezzo interessantissimo 3.500 euro nuovo arrivo invece per questa renault clio una sport tour quindi uno station wagon 1.500 dci a 3.900 euro unico proprietario fiat bravo con cambio automatico del 2009 90.000 chilometri 1.6 multijet a 6.000 euro un focus 1.6 turbodiesel 90 cavalli tenuta veramente veramente bene a 3.900 euro venitela a vedere perché vale veramente la pena una golf unico proprietario 105 cavalli turbo diesel 5 porte a solo 3.400 euro ed ancora mito 1.300 multijet 85 cavalli del 2014 a 10.500 euro con 12 mesi di garanzia nuovo arrivo per questa bravo con impianto gpl del 2010 unico proprietario full optional a solo 6.250 euro fiat double 2000 multijet un 7 posti del 2010 a solo 6.900 euro ne abbiamo un altro del 2006 a 5.900 sempre 7 posti una c max 1.6 turbodiesel a 4.500 euro tutta taglia andata ford uno scenic da spendere solo 3.500 euro si tratta sempre di un turbodiesel un altro double da spendere 3.500 euro del 2005 ma veramente in ottime condizioni una c4 a 3.900 euro berlina turbodiesel con 12 mesi di garanzia una panda 1.300 multijet a 6.500 euro del 2012 un nuovo arrivo per questa ford fiesta 1.400 turbo diesel 3 porte a solo 4.500 euro del fine 2009 e anche questa panda è appena arrivata un 1.200 benzina del 2007 a 3.500 euro anche questa coperta da garanzia amici automotomarco è sempre a vostra disposizione per poter proporre anche il vostro usato online con una vetrina aggiornatissima automotomarco.it è il nostro sito dove potete vedere tutto quello che c'è a disposizione info chiocciolautomotomarco.it per le vostre proposte i vostri mezzi insomma qualsiasi cosa siamo disponibili a 360 gradi disponibili naturalmente in corso orbassano 390 a torino dove alessandro signorini e tutto lo staff vi aspettano per cercare l'auto o la moto che fa per voi ciao sandro ciao palma un saluto a tutti grazie a voi per averci seguito alla prossima grazie a tutti grazie